Sono passati due anni dall'annuncio ufficiale di Elden Ring, il nuovo lavoro di FromSoftware, il cui lato narrativo è stato gestito a quattro mani da Hidetaka Miyazaki, già autore di Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, e George R. R. Martin, autore dell'acclamatissima serie di libri delle cronache del ghiaccio e del fuoco. Durante questo lungo periodo non si è più saputo nulla sul progetto, silenzio assoluto. I fan hanno continuato inarrestabilmente a sperare in un nuovo trailer, in un nuovo gameplay o anche solo in una dichiarazione da parte degli autori. E finalmente, dopo questa attesa che pareva non finire mai, ieri sera, alla fine della cerimonia d'apertura del Summer Game Fest, Kigli ha presentato al mondo il nuovo gameplay trailer di Elden Ring. Ed è qualcosa di davvero meraviglioso. Semplicemente è tutto ciò che i fan desideravano, un gioco di ruolo dark fantasy, souls-like, curato nei minimi dettagli, proprio come Dark Souls, ma con una struttura totalmente open world e non più limitata a singole zone. Il trailer mostra diverse tipologie di ambientazione. Lande che si estendono all'orizzonte, antiche rovine di chissà quali strutture, campi di battaglie ormai deserti, foresti oscure che nascondono pericoli dietro ogni fronda. E questo enorme mondo è sovrastato da un possente albero lucente, visibile da praticamente ovunque. Ci vengono mostrate anche diverse creature. Una di esse, per esempio, sembra essere una sorta di zolla di terra vivente che porta sotto di sé una campana. Dei giganti, probabilmente schiavizzati dagli uomini, che trascinano dei carri, delle anfore che sembrano possedere degli arti e moltissime altre forme di vita, tra cui alcune umanoidi che ci ritroveremo ad affrontare. Nonostante si sapesse già della sua presenza, abbiamo finalmente visto questo fantomatico cavallo. Non si tratta di un semplice animale, ma di una sorta di spirito evocabile in qualsiasi momento e che ci sarà d'aiuto persino durante alcune boss fight. E poi il combat system, che sembra essere l'apice di ciò che ha imparato From negli anni. Se non avete ancora visto il trailer, vi consiglio assolutamente di dargli un'occhiata. È ancora presto per dirlo, ma sono fiducioso che questo titolo sarà il capolavoro di From Software. Se come me avete amato i loro lavori precedenti, questo trailer vi farà impazzire. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi invito a commentare e a dirmi cosa ne pensate di questo trailer che per così tanto a lungo abbiamo atteso. Grazie ancora a tutti ragazzi. Alla prossima. Grazie a tutti.